E' una Cantiano in ginocchio, in ginocchio non soltanto il borgo storico, il centro che vi abbiamo mostrato nelle immagini di ieri, immagini di vie sommerse dal fango, di case inagibili, di attività di fatto distrutte, è una Cantiano che soffre anche per quello che riguarda l'area industriale limitrofa al centro del paese. Dovunque ci si gira nell'area industriale che è il primo biglietto da visita all'uscita dalla superstrada per Cantiano, si vedono fiumi di fango, capannoni sventrati o come vediamo qui una strada di fatto crollata proprio all'ingresso del capannone industriale che si trova alle nostre spalle. I danni più importanti sono come vedete la strada che qui è venuta giù e taglia fuori la mia officina, io sono un artigiano metalmeccanico e sono dei ragazzi che fanno il vino di viscele qua giù, il capannone qui davanti vedete voi non ci lavoravano ma è devastato, però tutto il tessuto produttivo di Cantiano è messo proprio in condizioni critiche, la politica nei prossimi giorni dovrà decidere se questo paese lo vuole far morire definitivamente o sono scelte importanti da fare sicuramente. La coriacità di questa gente è già nota e quindi gente che non si dà per vinta, gente abituata a cavarsela purtroppo essendo una zona depressa è abituata a cavarsela da sola, benvenga ci sono visti molti aiuti e questo è importante, ci sono diverse persone che aiutano, però ecco non ci diamo sicuramente per vinti, non bastano però, non bastano perché qui ci vuole veramente l'intervento anche dell'esercito perché è di qualcosa, bisogna che ci si metta in bocca e le mani che si diano aiuti veramente concreti. E qua siamo all'esterno della ditta SAM, costruzioni meccaniche sempre nell'area industriale limitrofa a Cantiano dove lo scenario all'interno del capannone di questa azienda parla da solo. Uno scenario come vedete è successo il finimondo l'altra notte e ecco con l'aiuto dei miei dipendenti, dei soci e anche degli amici stiamo cercando di riportare tra virgolette alla normalità il prima possibile per poter riaprire perché se no Cantiano è morto e ci vogliono subito, da subito, da adesso immediatamente delle sovvenzioni, qualcosa perché se no noi chiudiamo, siamo in ginocchio, siamo veramente in ginocchio e devono subito darci qualcosa, darci un aiuto perché qua i danni sono incalcolabili da come vedete, incalcolabili. Non può bastare la buona volontà degli amici che comunque fanno tanto ma siamo davanti a una catastrofe naturale. Sì, grazie a tutti quanti che sono venuti ad aiutarci, a darci una mano, anche ieri c'era tantissima gente da fuori però ci vogliono aiuti concreti, ci vogliono soldoni, ci vogliono i soldi, non parole, soldi per poter riaprire, non per guadagnare per poter riaprire le attività, se no Cantiano è morto, Cantiano, ripeto, è morto.